Salve a tutti ben tornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo a discord riguardo al problema error script di java che quando vai ad aprire discord non si avvia oppure esce questo errore e quindi il processo di discord non si avvia del tutto quindi in questo caso l'errore che può uscire è questo qua e quindi andremo a fare varie modifiche anche in app data quindi faremo tre passaggi nel disinstallando e reinstallando così discord quindi in questo caso andiamo un attimo su gestione attività e andiamo a trovare il nostro discord i nostri tre programmini di discord eccole qua tutti e sei e fai termina attività terminiamo così l'attività e facciamo il modo di rimuovere il discord dal gestione attività ok qui non c'è più niente chiudiamo un attimo qua vai su programmi programmi, installazione, applicazioni eccolo qua scendi fino a giù fino a trovare il programma discord eccolo qua e disinstalla discord una volta disinstallato discord andiamo un attimo su esegui percento app data percento meso app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di discord eccola qua cancella la cartella di discord oppure vai di nuovo su app data local o scendi fino a giù se c'è anche la cartella di discord qua dentro cancella pure quella riguardo poi all'installazione delle applicazioni c'è pure l'altro pannello di controllo quindi andiamo un attimo sul pannello di controllo vai su disinstalla un programma poi una volta eseguito questi passaggi andiamo un attimo sul cmd prompt dei comandi esegui come amministratore e scrivi gp update spazio slash force e fai invio aggiornamento dei criteri in corso e aspettiamo che aggiornamenti del criterio si completa ok aggiornamento dei criteri computer completato chiudiamo qua prima di reinstallare così discord riavvia il tuo sistema operativo una volta riavviato andiamo a scaricare e installare discord una volta riavviato e installato discord ecco cosa devi fare chiudi un attimo discord vai di nuovo in local app data app data roaming scendi fino a giù fino a trovare discord eccolo qua e cancella la cartella di discord chiudi tutto cancella svuota anche il cestino chiudono d'accordo ed eccolo qua di là di fare di nuovo l'accesso quindi ed ecco di scorto quindi i metodi erano questi se hai altri problemi scrivi sotto al video cercherò di aiutarti e quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao